Oggi il Milan, penso che la tifoseria, chi chiama il Milan è arrabbiato perché non vede una linea societaria. Penso che oggi, al di là degli ultimi anni i risultati che non arrivano, però penso che oggi la cosa che si nota di più è che per tanti anni questa società a livello organizzativo è sempre stata impeccabile e oggi lascia un po' a desiderare. Però ci stanno dei momenti negativi, l'importante è riuscire a capire dove si sta sbagliando e riuscire a ritornare la squadra che è conosciuta in tutto il mondo. Perché oggi il Milan secondo me è un patrimonio per il calcio italiano, è una squadra che rappresenta l'Italia in tutto il mondo e vederla così oggi fa male a tutti. Ma la rosa, rosso-nera secondo te non è all'altezza prima di entrare nelle questioni societarie? Adesso dedicheremo un ampio capitolo. Ma io penso che la cosa più importante è parlare chiaro con i tifosi e dire guarda in questo momento stiamo attraversando un momento negativo, c'è da soffrire, per due o tre anni daremo fiducia ai giovani, però dopo si parla di giovani e vediamo che i giovani vengono dati in prestito o venduti a altre squadre, capisci? Oggi la cosa che rimbalza all'occhio è che non c'è una programmazione, questo è quello che è noto.